Non solo sport ma anche solidarietà. La Pronisse infatti ha deciso di dare il proprio contributo per cercare di salvare la vita a Calogero Gliozzo, un ragazzo 27enne di Nissoria in provincia di Enna, che ha bisogno di cure per debellare un linfoma aggressivo che cerca di combattere da due anni. Le cure sono molto costose e devono essere fatte in America. La famiglia pertanto ha chiesto aiuto e di certo non si può rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza ed è per questo motivo che la società Nissena ha pensato di istituire una donazione libera nel corso della gara casalinga, la più importante della stagione, quella di sabato contro il Cus Palermo. Il ricavato servirà alla famiglia di Calogero per sostenere le spese necessarie per il suo ricovero e per le terapie negli Stati Uniti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.